A Urbino, secondo giorno del Festival del Giornalismo Culturale, un momento in cui scrittori, studiosi, giornalisti si confrontano sul futuro dell'informazione culturale e uno dei temi, una delle domande principali, una delle riflessioni, ma ne sono tantissime, è visto che oggi ci informiamo soprattutto sullo smartphone, sui cosiddetti nuovi mezzi, è ancora forte, è ancora senso fare informazione su carta con le riviste che eravamo così belle ed eravamo abituati a informarci soprattutto per parlare di cultura attraverso questi supporti, ebbene sì, ha ancora senso e ne abbiamo parlato con Vito Mancuso, uno degli ospiti di oggi, teologo e scrittore, con Marino Sinibaldi che ha avviato proprio una rivista sotto il volcano, rivista tutta cartacea dedicata al mondo della cultura, sentiamoli. Lei ha fiducia nei mezzi di comunicazione digitali per veicolare cultura? Ho fiducia nella misura in cui fanno informazione, ma la formazione, che è un'altra cosa, richiede necessariamente la calma, la pagina stampata, la possibilità di fermarsi, di chiudere, di pensare, di riflettere, ma le due cose dovrebbero andare insieme, informazione e formazione, se l'informazione però diventa così prevalente da distruggere la formazione, rischiamo la superficialità. La carta, una rivista, aiuta a fermarsi un po', a dare un po' di densità dentro il flusso, che è inevitabilmente leggero e veloce della nostra quotidianità. Si riesce o si riuscirà a fare cultura con i social network, l'immagine, la velocità? Sì, secondo me sì, che bisogna adeguare ogni volta i tempi, i contenuti e il mezzo, non cambiando troppo i contenuti né forzando troppo il mezzo.